E ben ritrovati sui teleschermi di Auto Occasioni, oggi appuntamento davvero speciale perché vi faremo scoprire dove e come acquistare l'auto in modo semplice e sicuro e con la garanzia del risparmio. Ci troviamo da Viva, concessionario ufficiale Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Abarth, l'indirizzo da Enzo Lagatta. Ciao, ben ritrovato. Ciao, ciao Palma, ben ritrovati a tutti voi. L'indirizzo è sempre lo stesso, Corso Rosselli 181 a un passo dal Parco Ruffini. Parcheggio interno, non esitate, entrate dentro con la vostra automobile, parcheggiate e poi ci saranno tutti i consulenti vendita pronti ad accogliervi e farvi testare le nostre bellissime vetture. Adesso andiamo a scoprire insieme quali sono le opportunità che abbiamo riservato per voi amici. E cominciamo con le grandi opportunità di Casa Fiat. Popolo di Panda, attenzione, milioni di italiani l'hanno già acquistata ed è qui, presso Viva, in pronta consegna. A soli 7.950 euro, prendete nota, Corso Rosselli 181, Panda vostra a 7.950 euro. E parliamo ora di un'altra icona di Casa Fiat, la Fiat Punto, vi anticipo che sarà qui a breve nei saloni di Viva, il nuovo modello 2018, ma nel frattempo tanto risparmio sui modelli in pronta consegna. Pensate, solo 7.990 euro potrete portare a casa la Punto con 5 porte, climatizzatore e radio. Fiat 500L a partire da 14.500 euro e per i più esigenti esiste l'allestimento anniversario a soli 15.800 euro, compresi il navigatore, retrocamera, cerchi in lega. Altra protagonista in contrastata di Casa Fiat, parliamo di Fiat Tipo, un piccolo prezzo per avere tanto. Hai detto bene, hai detto bene Palma, pensate, a soli 12.900 euro portate a casa questa bellissima Fiat Tipo, correte numerosi. Questo mese per i possessori del segmento CI ci sono degli extra sconti dedicati per voi, correte, correte numerosi. E ci sono grandi novità anche nel salottino di Casa Lancia. Sì, Lancia Y unica, pensate, Lancia Y a partire da 8.700 euro, correte numerosi e venite a provarla. E per tutti gli appassionati della Casa dello Scorpione non potevano mancare da viva le grandi opportunità d'acquisto del mese di aprile. Sì, aprile è un mese pazzesco per il marchio Abarth. Numerosi sono gli scontri, gli incentivi sulle automobili in pronta consegna e soprattutto la nuova 595 allestimento pista. Venite qui in corso Rosselli 181, prenotate il vostro test drive. Ebbene amici avrete riconosciuto sicuramente Luca al mio fianco perché ci troviamo ora nello showroom dedicato interamente ad Alfa Romeo con un mese che si arricchisce di grandi novità. Ciao Luca. Ciao Palma, hai detto benissimo, questo mese tantissime novità. Due nuovi modelli, Stelvio 180 cavalli a trazione posteriore e Alfa Romeo Giulia Q4 180 cavalli. Ebbene viva si differenzia sempre sul mercato, ha in anteprima tutte le grandi novità e soprattutto le auto in pronta consegna da venire assolutamente a provare. Sì assolutamente da provare, tutte qui pronte, tutta la gamma Alfa Romeo in pronta consegna. Da non dimenticare che concessionare a Fiat Viva vuol dire anche automobili chilometri zero, automobili usate e aziendali con pochissimi chilometri e tutto tutto il nuovo in pronta consegna. Vi aspettiamo numerosi, Corso Rosselli 181 a un passo dal Parco Ruffini. Una delle più grandi realtà commerciali da tantissimi anni sul mercato. Io saluto Enzo, Lagatta, Luca e tutto lo staff della concessionaria Viva e voi per averci seguito con attenzione. Alla prossima.